guardate cosa succede in questo spider man 2 enter electro il nostro amichevole spider man di quartiere ha appiccicato un criminale con la ragnatela e ora lo interroga ma lo scagnozzo mi dà la risposta dopo questo interrogatorio ora succede qualcosa di strano arriva shocker con le sue potenti onde shocker spider man deve fare molta attenzione a questo shock bene è tutto iscrivetevi al canale mettete un mi piace